non sono io quella stella e non scappare scusate dottor lo metto in poco qua eh perché questi smart infatti i spongi stanno rovinando le generazioni NORA! L'arrivo i tempi! come va a luca fanno alzare queste figue! poi dovevo prendere la temperatura della mia cucchia... della mia fe... della mia... della mia natura e poi si gasta insieme tutto quanto insieme in dalle stesse fasi tutto quanto è mogliere con tutto quanto è mogliere con tutto quanto è mogliere tutto quanto è mogliere dottor e cosa fa? stessi a mamma ma che ti dici? ho sciocciare l'emica grida al massimo a raglia è un inferno! io non ne sono uscita per sei anni all'inizio hanno detto che ero sana e che tra me e mio marito c'era soltanto un blocco psicologico dovevamo provare non sono tre giorni che non si toglie quella divisa di metro notte ad ossa fate i bullici per dimmi una pesca la divisa i politici che non fanno mai un cazzo non fecero una legge che vietava la fecondazione eterologa no sono andata a maggio dottore è il mese delle rose in verità io sono sempre stata una pochina rosa però ultimamente mi sento una pochina rosa appassita come dire una carciofa nooo non c'è un problema io ho fatto il dentatore io ho fatto il dentatore io ho fatto il bambino io ho fatto il bambino tutto quello che non si poteva stare vicino a esse vorrei che ci metti a fare mamma mia ciao 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 ciao